combattono ogni giorno il marito e la moglie che non capiscono le fasce e la rovina e le femmine dicono che non è un buono consigliere perché sembra che è una sera amatita in un mondo senza vino non si può immaginare levate la capa che questo può succedere se questo lo so sono la vita fasciata eppure se fosse vero vi giuro non ci posso credere aspetta tutto il giorno che fa notte